Simona ha chiuso la relazione con Rosalinda Celentano, mentre Francesca si è lasciata con Alessandra Brogno, con la quale ha avuto le gemelline Nina e Chloe. La vecchione e la Borioni sono state sorprese a Roma, insieme per due giorni di seguito. Prima alla presentazione del libro di Francesca, ti innamorerai senza pensare, poi a pranzo in centro a Roma, mercoledì 16. Le due sono arrivate nel cuore della capitale a bordo della minicar di Simona. Grazie a tutti.